Sono oltre mille le famiglie in Italia che hanno visto un proprio caro, un proprio affetto essere ucciso in modo vigliacco, violento dalla forza criminale delle organizzazioni camorristiche, dranghetiste e mafiose del nostro paese. Solo nella regione Campania sono quasi 100 le famiglie e solo nella città di Napoli sono quasi 70. 100 passi verso il 21 marzo è l'iniziativa del Comune in occasione della 24esima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La ricorrenza riconosciuta con legge nel 2017 quest'anno si terrà a livello regionale ad Avellino ed è preceduta da una serie di iniziative dedicate ai familiari delle vittime innocenti di criminalità. Non è mai un mero ricordo perché la giornata della memoria e dell'impegno e noi da 24 anni, l'anno prossimo sarà il 25esimo, riteniamo che la memoria fatta il 21 marzo sia assolutamente il seme del cambiamento. Non è la sterile o retorica testimonianza ma attraverso il ricordo delle vittime innocenti proviamo a generare cambiamento. È complicato, è sempre più complicato in questo momento però puoi guardare quei familiari che ti aprono il corteo, che potevano invece nascondersi giustamente nel proprio dolore, scelgono invece di donarcelo e di farci impegnare, significa che di strada se ne è fatta ma di strada se ne deve ancora tanto fare. Questa mattina all'appuntamento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino bancavano le scuole chiuse a seguito di un'ordinanza sindacale per avverse condizioni meteorologiche ma sarà rinviato al prossimo 27 marzo l'incontro che il Comune di Napoli e l'Associazione Libera promuovono con gli studenti. Ci diamo appuntamento a fine marzo per incontrare gli studenti. Oggi insieme ai familiari della nostra città ma non solo, anche molti della regione campania vogliamo condividere le storie, le nostre storie e vogliamo fare in modo che possano ogni giorno mettere in discussione tutte le persone che operano nelle tematiche della giustizia sociale e soprattutto nelle grandi battaglie di legalità necessarie affinché non ci siano mai più vittime innocenti da aggiungere a questo drammatico elenco.